Allora, dicevo, dal volume Dai Mondi Invisibili riprendiamo la nostra lettura a pagina 193, ma introduco questa lettura di questa sera leggendo gli ultimi tre paragrafi della lettura precedente, perché ci introduce molto bene ed è un brano bellissimo che vale la pena di rileggere. Per noi stessi e per coloro che magari non lo hanno potuto seguire la volta scorsa. Pagina 192 dice il maestro, è stato detto che l'uomo nel cosmo è centro di coscienza e di espressione, vi ricordate questa cosa che abbiamo letto la volta scorsa? È una individualità che si ammanta nelle successive incarnazioni di diverse personalità, ma tutte queste personalità sono illusorie, come tutto il resto dell'emanato. Quindi, varie incarnazioni che si sosseguono, c'è un processo evolutivo che avviene, ma tutte queste personalità di cui l'essere si ammanta sono illusorie, come è illusorio tutto l'emanato, ovvero la manifestazione che percepiamo intorno a noi come nostra realtà. L'unica che mai è nata, che mai cambia, mai muore, è la divinità insita alla radice di ogni cosa. Nell'uomo rappresenta il suo sé reale, nel quale egli può divenire consapevolmente uno col tutto e in esso fondersi. Così, quando viene detto nascita spirituale, non si deve intendere nascita dello spirito. Lo spirito è increato. Fate bene questo termine, increato. Ed è partecipe della natura dell'assoluto. Sapete che utilizziamo assoluto per intendere Dio. Lo spirito è increato ed è partecipe della natura dell'assoluto. E quindi è completo. È immortale. Immutabile. Infinito. Eterno. E via dicendo. Questi sono tutti termini che a noi così aprono un tentativo di comprensione, ma che in realtà da noi non sono sperimentabili. Qualcosa di infinito. Noi non riusciamo a concepirlo come non riusciamo a concepire qualche cosa di eterno. Nascita spirituale significa manifestazione di questo spirito nella coscienza dell'individuo. Quindi nascita spirituale significa manifestazione di questo spirito nella coscienza dell'individuo. Coscienza dell'individuo che matura attraverso varie esperienze esistenziali vede crescere dentro di sé nascere dentro di sé la consapevolezza di essere spirito e entrare in contatto con questo spirito. Tale divina eredità ci ricorda che tutto viene dall'uno e per sua forza tutto all'uno tornerà al termine di questo ciclo di manifestazione cosmica. Tutto allora sarà assorbito nel tutto e tutto sarà omogeneo. Oltre l'illusione delle forme oltre il mondo delle ombre oltre il continuo cangiarsi del quadro della natura al di là della materia dell'energia della mente è la realtà è la radice di ogni cosa la causa delle cause lo spirito infinito divina sostanza è importante che teniate ben presente queste ultime cinque righe del capitolo precedente perché è un condensato di significato che piano piano si disvelerà nelle nostre letture si disvelerà e si comprenderà a fondo che cosa si intende dire qua adesso noi entriamo in un capitolo che è estremamente denso non lo leggeremo per intero perché perché ci sono delle parti che riguardano proprio la nomenclatura delle sottigliezze della materia delle stratificazioni delle sostanze che compongono l'esperienza che noi facciamo come esseri umani quella parte là credo che sia più utile leggersela dal libro o dagli appunti che di solito cioè dalle pagine che di solito Nicola Ferrentino ci fa la gentilezza di pubblicare in modo che voi possiate leggerle anche se non possedete il volume credo che sia importante che ognuno se le legga perché non sono cose particolarmente complesse da capire ma è proprio una descrizione delle varie sottigliezze di materia di come è costituito e spiegato dal punto di vista delle sostanze che costituiscono la nostra esperienza esistenziale il cosmo intendendo con il cosmo non il cosmo astronomico qui si parla di cosmo in un altro in un altro modo e vedremo di cercare di coglierlo quello di cui noi facciamo esperienza è tra virgolette l'aspetto fisico l'aspetto materiale del cosmo non ha niente a che vedere con il cosmo astronomico cioè con gli universi e con tutto quel che c'è la nostra esperienza materiale è l'esperienza materiale del cosmo cosiddetto fisico ma pensate sempre che sono distinzioni queste che vengono suggerite dai maestri per aiutarci a comprendere meglio le cose perché il cosmo fisico è compenetrato dal cosmo astrale il cosmo astrale è compenetrato dal cosmo mentale poi c'è quello della coscienza è tutto quanto compenetrato varie sottigliezze di materia nel loro miscelarsi unirsi nelle varie aspetti densità della materia danno vita all'esperienza così come la facciamo noi però a seconda di dove ci collochiamo nell'osservazione cioè a livello della materia del piano fisico a livello della materia del piano astrale del piano mentale della coscienza dello spirito e via dicendo noi faremmo esperienze diverse adesso siamo qui a fare un'esperienza di tipo fisico perché ci confrontiamo con la sostanza fisica più materiale la più densa di questa manifestazione cominciamo quindi qui bisognerà fare molta attenzione perché stiamo parlando di qualche cosa che è stato pronunciato dai maestri del cerchio Firenze del 77 nel 1952 1952 erano pochissimi anni che era iniziata questa vicenda quindi voi pensate a questo gruppo di persone che riunite intorno a Roberto Setti che era un ragazzino ancora a quell'età era proprio giovanissimo poco più che ventenne e che andava in trance non sapeva niente di tutte queste cose aveva studiato da geometra non si intendeva di nulla meno che meno di filosofia andava in trance attraverso di lui parlavano queste voci dicendo queste cose altissime e qui c'è un vero e proprio condensato di alcune cose che poi verranno riprese e meglio spiegate andando avanti con l'insegnamento e con i libri successivi però bisogna proprio fare molta attenzione perché il linguaggio di allora si rivolgeva a persone che erano cresciute nel mondo cattolico che avevano poca competenza di queste cose e quindi che facevano una certa difficoltà e facevano una certa fatica ad assimilare queste cose su questi primi concetti i maestri si sono soffermati veramente a lungo proprio per lasciarli penetrare piano 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 poi voi pensate che il libro il primo libro del cerchio Firenze 77 è stato pubblicato la bellezza di 25 anni dopo rispetto a quando sono state dette queste parole che però erano proprio erano come dei prodromi di ciò che sarebbe venuto dopo prodromi una parolaccia era proprio un inizio proprio come dire un'aurora leggera leggera tra le nebbie dove comincia a venire sul sole che poi sarebbe stato negli anni successivi allora dice il maestro a pagina 193 dal nulla non possono essere state create tutte le cose ma l'eterna realtà o Dio assoluto quindi qui usa il termine eterna realtà come sinonimo di Dio assoluto abbiamo letto fino adesso che l'unica realtà oggettiva che esiste è Dio assoluto l'assoluto unica realtà oggettiva che esiste e qui viene chiamata eterna realtà perché è uno degli attributi di Dio essere eterno tenete sempre presente che tutte le volte che incontrate la parola eterno i maestri l'hanno definita assenza di tempo non un tempo che dura all'infinito ma assenza di tempo e questa è una cosa che per molti è un po' difficile da afferrare dal nulla non possono essere state create tutte le cose ma l'eterna realtà o Dio assoluto ha emanato da se stessa in se stessa ogni cosa per cui ogni cosa è plasmata è plasmata di divina sostanza soffermiamoci solo un momento guardate questa è una densissima questa lezione ci si sofferma qua perché intanto si dice che Dio ha Dio ovvero l'eterna realtà ha emanato non creato eh non creato non c'è una creazione cioè che da nulla si crea qualche cosa ma emana da se stesso in se stesso non da se stesso fuori in un altrove perché allora vedrebbe questa cosa che viene emanata la vedrebbe allontanarsi da sé e distinguersi da se stesso se io sono l'assoluto qualche cosa esce da me si allontana da me diventiamo due l'assoluto e la cosa che si allontana da me se invece l'emanazione avviene da me stesso in me stesso è qualche cosa della mia natura che prende una forma che prende una dimensione sempre all'interno di me quindi io non ne sono separato e la contengo in me in quella condizione di eternità cioè nel non tempo e dice per cui avendo emanato da se stessa in se stessa ogni cosa è plasmata di divina sostanza ogni cosa veniamo a noi ognuno di noi è plasmato di divina sostanza ognuno di noi è plasmato di divina sostanza siamo fatti di questo all'inizio di questo ciclo di manifestazione cosmica l'uno prende il cosmo come sua forma l'uno è un altro sinonimo per dire l'assoluto per dire l'eterna realtà all'inizio di questo ciclo di manifestazione cosmica l'uno prende il cosmo come sua forma cosa significa questo significa che questa entità questo dio questo assoluto prendere il cosmo come sua forma vuol dire emanare da se in se qualche cosa che ha una forma e poi vedremo meglio in che senso ha questa forma come avviene questo formarsi di qualche cosa da se in se stesso perché che necessità c'è non c'è una necessità di dio a questo ma è una natura di dio di esprimersi attraverso una forma si esprime attraverso una forma perché perché anche le forme devono far parte dell'assoluto altrimenti dio sarebbe non sarebbe più assoluto per essere assoluto deve poter contenere anche le forme qui si dice all'inizio di questo ciclo di manifestazione non bisogna pensare che questo inizio di un ciclo di manifestazione sia una come posso dire un inizio dei tempi e poi da quel momento là si sviluppa una manifestazione che va avanti nei secoli e nei millenni no stiamo sempre parlando di eternità cioè di assenza di tempo allora l'inizio della manifestazione non è qualche cosa che comincia e poi diventa realmente ma è proprio un inizio come l'inizio di questa matita qua l'inizio la poniamo la poniamo da questa parte e la fine la poniamo da questa parte per cui io dico inizio e fine questa penna ha un inizio da una parte e una fine dall'altra ma c'è già tutta è chiaro questo quindi non c'è una un tempo sì mi dice Luigi sono concetti molto complessi per questo andiamo molto lentamente ci soffermiamo e lasciamo che le parole penetrino dentro perché da questa iniziale difficoltà poi troveremo il modo di andare avanti quando verranno meglio approfonditi questi concetti ma all'inizio vanno presentati come tutte le definizioni iniziali possono all'inizio sembrare un po' estrane alla nostra mente ma dovete pensare che ciò che stiamo facendo è immergersi in una sorta di rivoluzione della mente perché ciò che ci stanno dicendo questi maestri e guardate viviamo dentro un'illusione siamo immersi dentro un'illusione credendo che sia una realtà vi spieghiamo com'è fatta questa illusione già dire questo alla nostra mente che è abituata tutto il giorno a muoversi nella convinzione di essere dentro una realtà capite bene come sia difficile da fare per qualsiasi mente bisogna piano piano all'inizio non cercare di opporre resistenza a questi concetti che vengono avanti ma semplicemente seguirli e cercare di farli penetrare dentro di noi quindi con molta calma proviamo ad andare avanti allora l'uno prende il cosmo come sua forma la divina sostanza plasma per prima la mente poi l'energia poi la materia vedete anche qui i maestri sono costretti ad usare delle forme lessicali cioè a esprimersi in un modo che fa pensare a qualche cosa che sta divenendo nel tempo ci sta descrivendo semplicemente come procede il crearsi di questa forma che abbiamo detto all'inizio Dio prende il cosmo come sua forma questa forma è la forma della manifestazione così come la vediamo noi noi siamo la forma della manifestazione di Dio d'accordo? allora essendo noi la forma della manifestazione di Dio ognuno di noi è una forma di manifestazione di Dio prima di tutto siamo plasmati di divina sostanza ognuno di noi è divina sostanza che ha preso una forma per manifestare l'esistenza di Dio nel suo piccolo modo no? la divina sostanza plasma per prima la mente poi l'energia e la materia che sono tutte compenetrate una con l'altra non sono separabili tra di loro per tutta la durata di questo ciclo di vita cosmica non può esservi energia senza materia né materia senza energia questo lo sappiamo noi stessi siamo fatti di materia e di energia che anima questa materia senza l'energia questa materia che siamo sarebbe solo un involucro un involucro fisico nel nostro caso fatto di organi di sostanze di quel che è ma inanimati mentre invece questa energia vitale che sentiamo dentro di noi è ciò che anima questi corpi ma questi corpi senza quell'energia non ci sarebbero ma questa energia animatrice senza un corpo attraverso il quale esprimersi non ci sarebbe neanche questa la materia è forma e non vi è forma che non sia manifestazione di una vita come dicevamo adesso energia materia la materia ha bisogno di una forma se devo prendere un sasso un sasso ha una forma può esistere una materia che non abbia una forma e se prendiamo una materia di un essere vivente c'è quell'energia che dicevamo prima che è una manifestazione di vita lo spirito divino o divina sostanza è vita e non vi è vita che non sia limitata da una forma queste ultime due righe sono importanti perché se riusciamo ad afferrare questo concetto poi dopo viene tutto in maniera molto più semplice dice lo spirito divino o divina sostanza è vita perché dice questo il maestro ci dà questa indicazione ricordate che la divina sostanza è la divina sostanza di cui è costituito l'assoluto andate a rileggervi le lezioni già lette se questo non lo ricordate allora se la divina sostanza è vita qui dice da tutta energia anche una pietra allora se la divina sostanza è vita vuol dire che ciò di cui è costituito l'assoluto è vita perché altrimenti l'assoluto sarebbe che ne so come un gigantesco monolite sarebbe qualcosa di immobile invece è essenzialmente vita è una vibrazione ma una vita perché esista ha bisogno di una forma ed ecco che è necessaria una forma e quindi ed ecco che la divina sostanza si limita dentro una forma poi vedremo in che modo ma intanto cominciate ad afferrare questo concetto affinché si possa vedere questa vita nel cosmo è necessaria la forma che la contiene quello che vi dicevo prima nessuno di voi è separabile dalla vita che vive pensate solo questo io sono una persona sono quello che sono e al tempo stesso ho una vita vivo una vita ma io non sono separabile dal mio vivere una vita ma senza una vita da vivere non sarei io quindi c'è un Enrico e la vita di Enrico Enrico è la vita di Enrico spostiamo tutto questo sul piano assoluto c'è l'assoluto e la sua vita non separabili l'uno dall'altro come non è separabile la mia vita da me stessa va bene? quindi perché questa vita possa vibrare questa vita ha bisogno di una forma che la contiene che è la mia forma la forma che ho preso io nel caso del di Dio dell'assoluto la divina sostanza che è vita perché non può essere altrimenti sarebbe qualcosa di morto che è vita ha necessità di limitarsi in una forma sempre emanando da se stessa in se stessa in modo da non essere separato da ciò che è questo è capire questo significa capire che noi siamo espressioni del divino siamo in contatto costantemente con il divino allora vi leggo questa parte che nel nostro capitolo è il redazionale che è stato aggiunto da chi l'ha compilato dove dice con queste parole del maestro Campis possiamo capire come anche la nascita di un cosmo sono parole che parlano del divenire ma pensate sempre in termini di eterno presente anche la nascita di un cosmo che sembra riguardare solo la scienza e qui parliamo della scienza astronomica sia un evento strettamente legato al concetto Dio assoluto al concetto di emanazione non di creazione per questo i nostri istruttori non hanno trascurato di farci intuire come ciò che sembra riferito alla sola materia costituisca un soltutto inscindibile con l'energia la mente lo spirito questo noi lo abbiamo visto nelle letture precedenti vi ricorderete abbiamo parlato di corpo fisico corpo astrale corpo mentale corpo della coscienza lo spirito le varie suddivisioni queste stratificazioni che non sono distinte l'una dall'altra ma compenetrate l'una dentro l'altra perché perché addensandosi queste materie sottilissime addensandosi sempre di più a seconda di dove tu le segui in questo addensarsi ti trovi nella dimensione mentale oppure nella dimensione astrale oppure in quella fisica è tutto quanto una stessa cosa tutto quanto una stessa cosa che per capire come si forma come si è formato e come procede in questa esperienza dell'esistenza i maestri hanno distinto per farci capire sono i primi passi bisogna accontentarsi di questo adesso io leggo ancora 4-5 righe del redazionale perché è interessante alcuni illustri scienziati hanno già ipotizzato che il cosmo fisico biologico finito ove esiste ove esiste il tempo e lo spazio l'energia e la materia il principio e la fine possa sconfinare nella visione di un cosmo che ha per base lo spirito matrice di ogni cosa inanimata animata e inanimata in cui non esiste più un qui e un là un passato e un futuro un cosmo spirituale illimitato nello spazio e nel tempo senza inizio né fine perché eterno cioè senza tempo qui mi viene in mente Filtrioff Capra che 45 anni fa questo fisico importantissimo americano spiegava le cose in questi termini senza senza avere la possibilità di penetrarle a fondo come ci permettono di fare le nostre guide in maniera molto semplice ma facendo un parallelo tra le scoperte scientifiche recenti di allora e che oggi permettono a noi di guardarci attraverso uno schermo di un computer no e le discipline orientali e ciò che spiegavano nei termini abbastanza simili almeno in questa fase un po' iniziale dell'insegnamento dei maestri il resto del redazionale lo salto perché non ci serve adesso leggere questo e vado in fondo alla pagina 194 dove si dice nel principio era la parola e la parola è appo dio la parola è dio la parola è appo dio la parola è dio dice l'evangelista giovanni qui campis sta citando l'evangelista giovanni il quale dice che la parola è appo è come dire incollata a è vicino a difficilmente distinguibile da e quindi la parola è appo dio la parola arriva a dire è dio siamo di nuovo lì adesso lui lo dice meglio che delle mie spiegazioni che cos'è la parola dice campis un pensiero manifestato qualcosa che era in e che si rivela è quello che abbiamo letto poco fa è quello che abbiamo letto poco fa ovvero la parola è un pensiero che si fa voce che fa muovere la bocca o scrivere qualche cosa su un foglio cioè qualche cosa che prende una forma è qualche cosa che era in in potenza e che diventa atto e che si rivela è la stessa cosa di dell'assoluto che si manifesta attraverso la vita la vita è la parola la parola è appodio da dio distinguibile solo per la forma che prende ma la stessa cosa la parola è dio nell'Evangelo di Giovanni queste parole vogliono se non spiegare metterci sulla strada di come nasce un cosmo pensate alla bellezza di questa cosa il cosmo che abbiamo detto l'abbiamo letto prima nel finale del capitolo precedente il cosmo è una illusione il cosmo soprattutto con l'esperienza che ne facciamo noi come qualche cosa di diviso all'interno del quale viviamo la divisione perché siamo duali noi tutti noi siamo un io che percepisce non io intorno a sé quindi c'è questo senso di separatività di separazione costante da tutto quello che c'è e nel nostro concetto in cui cerchiamo di immaginare quello che ci sta spiegando Campis noi pensiamo a qualche cosa che è staccato che è separato ci dice nell'Evangelo di Giovanni queste parole vogliono se non spiegare metterci sulla strada di come nasce un cosmo ma nasce come nasce una parola la parola non è distinguibile dal suo pensiero non per la forma sono la stessa cosa sono esattamente la stessa cosa nel mentre che si dicono parole queste parole sono hanno una velocità di uscita ma sono collegate al pensiero che ci sta dietro e non le possiamo distinguere l'una dall'altra cosa una è l'espressione dell'altra l'una senza l'altra non possono essere compiutamente quindi per il cosmo è così nasce un cosmo cioè un cosmo si manifesta essendo in Dio ed è una forma che prende ma solo una forma una forma che non è una sostanza è una forma noi poi la percepiamo come sostanza per tutte quelle cose che abbiamo detto nei capitoli precedenti dice il maestro poiché dal nulla poiché dal nulla non può nascere nulla Dio è Dio è colui che è Dio è colui che è cosa vuol dire Dio è colui che è colui è questo concetto di Dio che è quasi intoccabile che è è ciò che si esprime ciò che è dentro la vita ciò che vibra ciò che è presente è essere è e esprimere se stesso cioè colui che è sempre esistito il quale non cesserà mai di esistere non ha avuto inizio non avrà fine stiamo parlando di una condizione di eternità dove siccome non esiste il tempo può esserci solo vita che vibra vibra questa vita vibra 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 in questa condizione di non tempo questo è un altro concetto che qui è introdotto e che più avanti affronteremo più in profondità perché arrivare a capire bene che cos'è il tempo che cos'è veramente il tempo e che i nostri scienziati dagli anni venti in poi cioè negli ultimi cento anni hanno capito molto bene che il tempo come noi ne facciamo esperienza non esiste che il tempo newtoniano che nel 1600 si pensava come una specie di che posso dire di contenitore nel quale noi ci si muoveva non esiste non esiste alla fine della diciamo nella seconda metà del secolo scorso i fisici quelli più illuminati sono arrivati a dichiarare quello che ormai è coniezione abbastanza comune e cioè che il tempo viene introdotto dall'uomo con il suo vivere è una dimensione dell'uomo la quarta dimensione dell'uomo allora qui dice il maestro Dio è colui che non ha avuto inizio non avrà fine capite bene che se fosse qualcosa che ha un inizio e che poi ha una fine diventa qualcosa di limitato a scadenza prima non c'era poi c'è e poi finisce non c'è più non può essere parliamo di Dio assoluto quindi questo non può essere di più questo Dio non può divenire divenire è la nostra esperienza esistenziale noi passiamo insieme un'ora questa ora scorre scorre nelle parole nella lettura ma scorre ma Dio non può divenire perché non può divenire perché è sempre uguale a se stesso se divenisse nel mentre che diviene diviene qualche cosa che prima non era e quindi non sarebbe completo non sarebbe assoluto verebbero a mancare quegli attributi all'assolutezza di Dio che ne farebbero di nuovo un Dio come quello che è stato descritto dalle religioni allora di più questo Dio non può divenire cioè acquistare o perdere qualcosa perché è completo quindi tutto quanto esiste è in Lui tutto quanto esiste è in Lui guardate che pensate a questa frase tutto quanto esiste è in Lui in tutto questo quanto esiste ci siamo noi ci siamo noi noi siamo in Lui cambia cambia solo aspetto si trasforma ma non si accresce non accresce non può aumentare non può acquisire qualcosa poiché questo significherebbe che Egli prima di tale acquisizione mancava di qualcosa invece è completo questa trasformazione trova la sua spiegazione la sua ragione di essere proprio nella natura stessa di Dio cioè questa è la natura di Dio vivere vibrare esistere attraverso le forme che prende che prende costantemente ma non costantemente fuori dal tempo noi abbiamo purtroppo un vocabolario molto limitato che ci costringe a usare i termini del divenire ma voi cercate di stare sempre sul piano del presente perché dice il maestro esistere significa appunto passare da una trasformazione all'altra come noi la nostra trasformazione nel nostro corpo da stamane a stasera sono cambiate molte cose molte cellule molti il metabolismo ha fatto tutti i suoi processi tutto quello che è successo c'è stata una costante trasformazione questo significa esistere trasformarsi continuamente in questo concetto sta una realtà che è conosciuta da alcune religioni come i giorni e le notti di Brahma e anche qui sono delle immagini che ci servono per comprendere ma non rimanete collegati a queste immagini perché i giorni e le notti di Brahma possono far pensare a qualche cosa che prima non c'era poi diventa in un modo e poi finisce allora prima c'è la notte poi viene il giorno di Brahma poi di nuovo la notte immaginate tutto quanto presente uniformemente sempre costantemente in una condizione di non tempo i giorni e le notti di Brahma cioè i periodi di manifestazione e non manifestazione di questo Dio che abbiamo visto essere assoluto e non potrebbe essere altrimenti poiché non sarebbe Dio questi giorni e notti di Brahma o di Dio sono Lui stesso rappresentano la sua natura la spiegazione e la ragione della sua esistenza il Dio è colui che è colui che è in un modo e colui che è in un altro colui che è in presenza della manifestazione che si manifesta attraverso una manifestazione e colui che si manifesta attraverso una non manifestazione perché per essere completo deve esservi la manifestazione così come la viviamo noi e la non manifestazione rispetto a come la viviamo noi e con questa affermazione cioè il Dio è colui che è e con questa affermazione noi abbiamo escluso ogni possibilità di divenire in Lui perché ciò che diviene diviene ciò che è sostanzialmente è il divenire è un'espressione di quell'essere è come un effetto di quell'essere ma ciò che è reale è l'essere egli non è né giorno né notte dice il maestro è colui che è ma in Lui si hanno queste manifestazioni cioè emanazioni di cosmi detti giorni di Brahma e si hanno le non manifestazioni in cui i cosmi non sono manifesti e questa realtà è chiamata notti di Brahma sono figurazioni ci servono per cominciare ad afferrare questi concetti ora non è detto che nel suo essere infinito debbano susseguirsi i giorni alle notti capite possono essersi manifestati innumerevoli cosmi i quali giunti al termine della loro manifestazione si riassorbono sono riassorbiti e si hanno le notti ma non si deve cadere nell'errore che un solo cosmo sia manifestato e una sola notte si abbia prendete questa parte di questa descrizione così come viene perché la la farete vostra andando avanti piano piano qui dice Anna un continuo infinito presente dove la parola è rivelazione manifestazione del pensiero dice il maestro il Dio ha in sé i giorni e le notti di Brahma poiché egli è il giorno e le notti di Brahma uniti le due cose presenti insieme simultaneamente nella condizione di eternità cioè di assenza di tempo di assenza di scorrere di assenza di divenire concetto difficile per chi non ci si è mai avvicinato perché noi siamo immersi nel divenire a noi ci passano i minuti e quindi passando i minuti diciamo il tempo scorre prendiamo in esame un giorno di Brahma cioè una manifestazione come nasce un cosmo dal nulla non può venire nulla i tempi cioè questa manifestazione che ha un inizio e una fine nascono i tempi nascono dall'emanazione di qualcosa che non è al di fuori di Dio ma è in Dio in Dio stesso qualcosa che era in e si rivela come la parola di cui si parlava all'inizio diceva all'inizio dell'evangelista Giovanni la parola non è che l'espressione fonica di un pensiero la parola non è un pensiero ma l'estrinsecazione la manifestazione di un pensiero la forma di quel pensiero così il cosmo non è Dio ma la manifestazione di Dio capite? e questo cosmo non è al di fuori di Dio né prima né dopo la sua manifestazione resta in Dio viene emanato si concretizza per così dire prende forma ma rimane in Dio non si distacca da Dio perché Dio lo emana da sé in sé l'evangelista ci vuole dire che i tempi sono iniziati con una manifestazione la quale è appo cioè con Dio cioè non disgiunta da Dio perché è Dio stesso la manifestazione è Dio stesso sta dicendo che noi siamo frammenti della manifestazione di Dio assenza di dualità l'assenza di dualità cioè è chiaro che in una condizione di eterno presente di infinita presenza di tutto quanto c'è in Dio la dualità non esiste se non come sua manifestazione all'interno di sé perché ovviamente non può mancare anche questa manifestazione altrimenti Dio sarebbe incompleto della dualità ma come manifesta Dio da sé in sé la dualità con l'esperienza che facciamo noi noi ci sentiamo di vivere in una realtà duale siamo noi e tutto ciò che ci circonda quindi uno di qua e due di là questa è la realtà duale che noi sperimentiamo ma ricordiamoci sempre che siamo un'illusione un'illusione non vuol dire una finzione andrà capito bene questa cosa dell'illusione dunque la manifestazione è in Dio dall'intimo per così dire di Dio stesso si rivela appare ma non fuoriesce rimane in Dio eh questo primo alito cioè il prendere forma l'inizio di questo posto che si possa parlare di inizio dove non c'è né un inizio né una fine ma un inizio e una fine come ve lo descrivevo prima con la penna no? questo primo alito questa prima manifestazione è il logos che in greco vuol dire appunto parola e sta a disegnare il centro ideale degli universi il massimo piano il piano spirituale per eccellenza cioè proprio come vedere sbocciare dalla materia dalla divina sostanza qualcosa che è di quella natura è di quella divina sostanza noi siamo plasmati dice il maestro di divina sostanza sboccia qualche cosa che diventa subitaneamente mondo manifesto questa apparenza nella quale viviamo quel punto quella nucleazione che fa sbocciare questa esperienza da Dio in Dio è il logos è ciò che in qualche modo dà un po' la traccia di quello che sarà quel cosmo dalla notte di Brahma periodo di non manifestazione si ha un primo alito una prima rivelazione la quale si intende questa successione non nel tempo ma come successione logica o numerica da uno a due da due a tre da due no? essendo prima rimane anche come meta più alta e più vicina a Dio stesso svelato nella sua natura al di fuori di ogni velo illusorio questo punto di partenza resta punto di arrivo per l'evoluzione dell'uomo da uomo a superuomo abbiamo già visto nelle lezioni precedenti che si parla di superuomo quando l'uomo esce dalla ruota delle nascite delle morti cioè smette di fare questa esperienza nel percorso evolutivo di essere che si incarna più e più volte esce da questa esperienza e fa un altro tipo di esperienza che verrà descritta nei particolari più avanti e che è stata definita superuomo ora questo logos manifestandosi in triplice aspetto diviene anche circonferenza degli universi da principio diviene anche fine e qui principio e fine come estensione ma anche fine come scopo questa prima manifestazione primo alito che è pietra cubica del cosmo che si sta manifestando può essere vista metaforicamente simbolicamente idealmente come un punto attorno al quale gravita o graviterà il cosmo e non può essere diversamente non può esservi infatti in questo cosmo che si sta formando un altro centro ideale può essere solo quello centro ideale di un cosmo perché questa prima manifestazione è quel quid più vicino a Dio svelato che rivela se stesso attraverso le forme che prende più vicino non nel senso di vicinanza fisica ma di comprensione di immedesimazione in questo senso non vicino come vado lì e tocco l'assoluto no proprio come comprensione della natura di immedesimazione in Dio tanto che colui il quale giungerà a vivere completamente unito con questo primo alito convenzionalmente definito Logos è uno non solo con i più grandi maestri spirituali ma uno con Dio nel senso che conosce Dio privo di veri eccoci alla Trinità riconosciuta da ogni essere illuminato e qui si rifà alle discipline orientali a tante come dire le parti segrete di varie religioni e via dicendo quella orientale in particolari se questo punto è centro ideale del cosmo che nascerà questo non vuol dire che il cosmo sia nato pensate come ci riporta subito alla realtà di ciò che sempre è tutto dispiegato non vuol dire che il cosmo sia nato è gettata la pietra miliare gettato il cardine su cui si svolgerà tutto il cosmo ma il cosmo deve ancora manifestarsi com'è che si manifesta interviene un cambiamento una successiva sempre in senso logico non temporale una successiva manifestazione creato il centro del cosmo si manifesta quella che deve essere circonferenza cioè la delimitazione dello spazio ambiente la trinità la triplice manifestazione dell'assoluto centro e circonferenza bene allora io qui tiro un rigo perché tiro un rigo tiro un rigo perché quello che abbiamo letto finora è così importante e denso che credo che non voglio che si disperda ora vedete sono qui a svolgere solo una funzione di lettura ma quindi non ho ruoli di nessun tipo ma essendoci passato più e più volte attraverso queste letture credo ho capito l'importanza di lasciare penetrare dentro di sé queste prime cose che si radichino dentro attraverso la lettura la rilettura la riflessione rigo per rigo perché se si fa questo lavoro all'inizio poi dopo viene molto più semplice tutto quello che viene dopo all'inizio qualcuno ha parlato di cose molto complesse siamo solo all'inizio di un viaggio incredibile viaggio misterioso speciale entusiasmante e queste cose da complesse devono diventare cose accettate per il momento dalla propria mente così come sono nella certezza che andando avanti saranno meglio comprese e meglio spiegate meglio spiegate perché si va avanti sempre un approfondimento costante con i maestri ma anche meglio comprese perché diventano a poco a poco parti di noi cominciare a pensare che il tempo non esiste difficilissimo pensare questo che siamo immersi dentro il tempo pensare che il tempo non esiste che c'è una condizione di non tempo di non tempo e che quindi le cose che a noi sembrano essere entrate nel grande magazzino del passato e scomparse in realtà non è così è solo che noi abbiamo questa competenza fisica materiale di fare esperienza della vita attimo dopo attimo e non possiamo trattenere l'attimo che ha appena trascorso perché siamo impegnati in quello che sta avvenendo nel momento e quindi non abbiamo questa capacità di contenere tutto quanto è esistito della nostra esperienza esistenziale ma non sappiamo neanche che è già presente in quella condizione di non tempo tutta quella parte della vita che noi ancora non stiamo sperimentando quindi è proprio una rivoluzione della mente per adesso bisogna accoglierla così com'è perché questo è l'unico modo che abbiamo di avvicinarci alla realtà di ciò che siamo allora fammi vedere se c'è qualche domanda che è trascorsa intanto se ve ne vengono fatele io do così ognuno di noi è plasmato di divino assoluto bellissimo sì veramente bello siamo gli atomi del creatore beh anche questa immagine gli atomi del creatore in un certo senso sì mi verrebbe da correggere il creatore perché è proprio un termine che viene dalla nostra religione anche da qualche altra qui non si crea niente naturalmente l'assoluto emana da sé in sé stesso abbiamo detto quindi non c'è una creazione emanatore oppure l'assoluto siamo atomi sia dell'assoluto come divina sostanza e sia della sua manifestazione quindi atomi della manifestazione di Dio e mi sembra che risponda bene al concetto poi siamo uno questo è verissimo è come quando si vede un defunto si vede che è vuoto è inanimato è come quando si no questa questa domanda di Luigia la capisco poco ma si vede un defunto nel senso ah cioè un corpo una salma forse volevi dire questo sì anzi senz'altro si vede che è vuoto è inanimato infatti perché di una persona che ha lasciato il corpo fisico cioè è morta secondo quello che si dice comunemente si dice che l'anima lascia il corpo perché il corpo finché c'è l'anima è animato dall'anima è animato quando è inanimato è come se l'anima si staccasse da quel corpo diventa diventa è quello che è sempre stato e cioè uno strumento un veicolo un mezzo per far vibrare un'energia quando questa energia si allontana da quel mezzo quel mezzo torna a essere ciò che è semplicemente materia mentre quell'energia si esprime attraverso altre sostanze più sottili non è che scompare non è che va un altrove ma è proprio una sottigliezza diversa non raggiungibile attraverso i poveri sensi del corpo fisico che hanno la portata esclusiva di poter vedere la materia fisica intorno a sé e lì ci ci fermiamo con i nostri sensi all is one che cos'è chi c'è qua qualcuno che mi sta scrivendo allora all is one siamo tutto e tutti dentro lo stesso universo fitri of capra la fisica zen sì proprio quello buonasera un continuo infinito presente dove la parola è rivela rilevazione forse rivelazione manifestazioni del pensiero assenza di dualità la divina sostanza plasma per prima la mente cosa si intende per mente questo lo capiremo proseguendo questo capitolo perché quando parliamo del triplice aspetto dell'assoluto si parla proprio della mente della mente in particolare della mente dell'uomo perché la mente dell'uomo ha delle caratteristiche particolari Paola dice parecchio difficile ti garantisco che siamo all'elementari e mi ricordo che io all'elementari facevo una certa fatica con quelle aste a imparare i primissimi giorni a scrivere le letterine poi a forza di farlo oggi ci viene facile facile scrivere all'inizio si fa un po' di fatica non pensare che sia parecchio difficile puoi pensare che sia strano che sia una cosa nuova che ci vuole il suo tempo per farla diventare tua ma non ti porre una difficoltà dicendo che è difficile tutto di riascoltare sì sicuramente un viaggio arduo ecco un'altra posizione ma sicuramente il viaggio più affascinante e prezioso per ciascuno di noi viaggio arduo è il nostro essere incarnati in questa vita e cimentarsi con le varie sfide che ci vengono incontro giorno per giorno perché dovrebbero esistere più cosmi perché se esistesse un solo cosmo sarebbe estremamente limitante non dobbiamo pensare più cosmi uguali a quello che noi stiamo sperimentando e questo è il nostro facciamo la nostra esperienza così come è questo ma ci possono essere innumerevoli proprio da non poterli contare altri cosmi con forme completamente diverse regole completamente diverse stili di espressione esistenziale completamente diverse noi conosciamo questa ma ci devono essere tanti tutto quello che può essere come dire differente da quello che viviamo noi può esistere perché se no mancherebbe alla solutezza di Dio tutto questo andrebbe letto riletto tante volte fino a che questi altissimi concetti non può sì è vero è vero Patrizia sì mi riferivo alla Salma alla fine l'ho capito e se Paolo essendo in Dio non abbiamo dunque niente da temere eh sì sarebbe proprio così riuscire a fare nostro questo concetto in maniera profonda significa proprio questo che non abbiamo niente da temere siamo già dove vorremmo arrivare siamo tutti particelle della stessa energia figli di un Dio maggiore va bene allora io vi invito a rileggere con molta attenzione quello che abbiamo letto fino adesso molta molta attenzione ci aspettano due settimane prima di ritrovarci vedete se riuscite a fissare bene queste cose e anche a rileggere qualche cosa di quello che abbiamo letto prima a cui ho fatto via via riferimento andando avanti perché ci aiuta moltissimo fissare questi primi punti così come abbiamo fatto e poi proseguiremo con maggiore facilità ma vi invito anche a prendere degli appunti nel senso se c'è qualche cosa che sentite particolarmente ostico possiamo tornarci sopra non siamo mica cioè noi noi facciamo quello che serve a noi per capire meglio che sia possibile e ripetere Giova sempre come dice il proverbio latino e quindi possiamo tornare su alcune cose che magari non sono così chiare perché se rimangono dei punti di poca chiarezza poi si fa veramente complicato andando avanti mentre invece se li sciogliamo adesso diventa tutto più semplice allora io vi ringrazio infinitamente di essere stati qui stasera insieme a me e vi auguro di fare un buon studio un buon percorso e ci rivediamo fra una quindicina di giorni ma ricordate è fra due settimane non alle 21 e 30 come oggi ma alle 15 due settimane alle 15 la data non me la ricordo oggi è il 5 5 dovrebbe essere il 19 sempre di venerdì alle 15 d'accordo vi saluto alla prossima